Pesaro, capitale della cultura 2024, sospinta dalla benedizione del ministro della cultura. Gennaro San Giuliano ha fatto tappa domenica mattina in città in occasione del convegno dal titolo egocentrica, tenutosi in prefettura e organizzato da Mati Group. Una tavola rotonda dal focus incentrato a ripensare gli immobili per una nuova cultura dell'abitare, volta a ripopolare i centri storici e a mantenerne intatte le identità. Un tema caro al ministro, ospite d'eccezione di un evento che ha sottolineato anche l'appoggio dell'esecutivo al percorso di Pesaro capitale. Pesaro è storicamente una città molto importante, basta visitare questo salone, apprenderne la storia per rendersi conto di quanto questa città abbia da dare anche in termini di cultura e di turismo della cultura. Noi siamo impegnati a sostenere la città di Pesaro e i suoi cittadini per, come dire, meglio rappresentare questa grande occasione. Dalla capitale della cultura alla valorizzazione dei borghi, il ministro ha confermato come anche la provincia pesarese attingerà dal miliardo previsto dal PNRR per valorizzarli. Conosco bene Pesaro e conosco bene le Marche e ne conosco il grande valore storico di questo territorio, questo territorio ricco di storia, soprattutto nelle zone interne, ha tantissimo da far vedere e da offrire. Nel PNRR noi abbiamo il progetto sui borghi, finanziato con oltre un miliardo di euro, un progetto molto importante, siamo impegnati costantemente a spendere bene, con efficienza, con onestà e con lungimiranza queste risorse. Ministro Sangioliano che nel Salone Metaurense è intervenuto assieme al prefetto greco, al vice sindaco Vimini, al presidente del Consiglio regionale Dino Latini e all'ex rettore dell'Università di Uibologna, Ivano Dionigi, all'interno di una tavola rotonda organizzata dal Centro Studi di Mati Group, azienda sempre più radicata nel territorio e timonata dal presidente della Vispesaro Mauro Bosco, che ha invitato a ripensare il concetto dell'abitare gli spazi pubblici. Il tema è ammodernare, rendere funzionali, più sostenibili i luoghi storici dei borghi e delle città, per rivitalizzarli, perché è chiaro, avere e vivere solamente, diciamo così, del pregresso storico, chiaramente non aiuta nemmeno la socializzazione e nemmeno le fasce economiche. Quindi sostanzialmente gli interventi devono essere evocati ad una tutela dello stock immobiliare storico, ma anche ad una sua rigenerazione, perché questo è irreversibile, altrimenti li costringeremo ad una desertificazione, perché il confort abitativo è, diciamo così, ormai un tema del consumatore immobiliare. E se lo ricercano in periferia, chiaramente i luoghi storici e i borghi, che sono l'anima identitaria dei territori, viene a perdersi.